Ciao ragazzi bentornati oppure benvenuti sul canale di Euromonete Channel iscrivetevi per prima cosa che mi fa veramente tanto piacere e mi supportate quest'oggi vi porto un contenuto inedito su youtube e stiamo parlando dei 3 euro della Slovenia ovviamente commemorativi che mi hanno regalato il compleanno e per questo ringrazio moltissimo Tony quindi andiamo a vederli uno per uno come già detto sono tutti commemorativi sloveni emissione di 3 euro e sono monete che vanno dal 2010 al 2018 quindi andiamo a scoprirle insieme per questo video mettete un sacco di like e andate a iscrivervi che dobbiamo arrivare a mille ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.